Allora, sono a Vicugna, vicino alla Serena, qua, e mi sono fermato da Carabinieri per chiedere se il passo d'acqua negra era aperto o chiuso, e è chiuso fino all'anno prossimo, perché grazie al signor Carlo, che mi ha mantenuto due mesi in Santiago per aspettare due pastiglie per i freni, è arrivato il freddo, è arrivato l'inverno, e quindi c'è la neve, c'è tutto, e non si può passare. Quindi, cambio di programma, si arriva al nord dal Cile, quindi vado alla Serena e poi mi vado a cercare qualche sentiero di terra, diciamo che fa tutta questa strada.